Sarà il segretario in carica Vittorino Facciolla a guidare il Partito Democratico alle prossime elezioni regionali del 2023. Non ci sarà nessun congresso regionale in vista di quello nazionale, quindi nessun cambio del gruppo dirigente del PD. A deciderlo a larghissima maggioranza è stata la direzione regionale del partito che con un secco 23 a 3 ha chiuso l'ipotesi congressuale messa in campo nelle scorse settimane dalla capogruppo regione Michela Fanelli rispetto alla quale ipotesi il segretario regionale aveva dato comunque disponibilità. La direzione regionale dopo aver valutato le ragioni a favore di un congresso regionale e quelle contrarie ha deciso di sposare la linea del segretario nazionale Ricoletta che aveva dato indicazioni contrarie ai congressi regionali. Si celebrerà quindi solo quello nazionale a marzo come previsto. I congressi di Molise, Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, regioni dove si andrà alle urne nel 2023, si terranno quindi dopo il voto per le regionali. L'idea di Facciolla è quella di rilanciare il cosiddetto campo largo con uno sguardo al congresso nazionale che secondo il segretario restituirà smalto e vigore anche in periferia. Lo schema a quale Facciolla guarda è quello di una alleanza con il Movimento 5 Stelle allargata ai gruppi civici e a quell'area centrista che ha preso le distanze dal governo Toma. Bisognerà però capire adesso come troveranno composizione gli antagonismi tra i due potenziali candidati che il partito potrebbe mettere in campo per la presidenza della regione, lo stesso segretario Facciolla e la capogruppo del PD in regione, Michela Fanelli. Questo chiaramente nel caso che il Movimento 5 Stelle accetti che a correre sia un candidato del PD, cosa tutta da vedere. Al momento quello tra i pentastellati e i dem è un dialogo tra Galileo e l'Inquisizione, senza speranza, almeno per ora.